Industriali sul piede di guerra dopo aver ricevuto dagli uffici dell'Andreani tributi le maxicartelle sull'Atari, la tassa sui rifiuti. A scendere in campo è anche l'associazione di categoria Confindustria che dopo le prime segnalazioni dieci giorni fa aveva contattato le aziende fanesi associate per chiedere segnalazioni e verificare di conseguenza le anomalie. Segnalazioni che ci sono arrivate in particolare in casi dove la rilevazione degli spazi produttivi erano totalmente differenti da quelli che rispondono alla realtà. Infatti, come spiega Mauro Papalini, presidente di Confindustria Marche Nord territoriale di Pesero e Urbino, le metrature delle aziende risultano maggiori rispetto a quelle rilevate tempo fa dagli esperti, dati che hanno comportato un aumento della tassa e in molti casi retroattiva fino al 2015. Il regolamento comunale però non è cambiato e quindi i magazzini di fornitura delle materie prime e le aree produttive non dovrebbero essere considerate perché lo smaltimento dei rifiuti viene fatto tramite altre società. Le anomalie più importanti, precisa il presidente, sono emersi da una non corretta valutazione delle metrature degli stabilimenti. In altri casi invece gli aumenti di cubatura dovevano essere comunicati dagli imprenditori. Uno dei casi più eclatanti è quello che una parte di uno stabilimento è stato calcolato per l'intero quando una porzione di quello stabilimento fino a poco tempo fa era addirittura affittato a un'altra società. Confindustria in questi giorni sta partecipando a diverse riunioni per capire il da farsi. Mercoledì prossimo si incontrerà con i rappresentanti delle altre associazioni di categoria per fare il punto della situazione e valutare azioni comuni. Questo è emerso che su circa oltre 80 associati che abbiamo sul comune di Fano questo problema l'hanno riscontrato in più di 20 società. Queste 20 società si sono trovate a dover sborsare oltre il milione di euro. Abbiamo chiesto al comune di rivedere i singoli casi per riportare alla normalità.